Quale secondo lei il contributo che possono dare religioni correttamente intese di pace, di condivisione in un mondo dove spesso la parola religione è abusata per promuovere morti, violenze, ingiustizie, anche alimentari? Sì, spesso anche alimentari. Le religioni credo che possano dare un grandissimo contributo, ne è un esempio oggi ritrovarsi qui a mettere una semplice firma, a essere tutti emozionati ma bisogna andare un passo oltre, la firma vuol dire impegnarsi. Bene, allora da domani che tutti siano veramente impegnati a mettere il cibo al centro dell'essere umano lasciando a parte ognuno la propria idea di spiritualità.